Nelle precedenti puntate ho cercato di illustrare le ragioni essenziali per le quali si utilizzano dei modelli nelle attività di consulenza e le caratteristiche fondamentali che possiamo ripassare sono il fatto che semplificano la realtà, il fatto che siano pragmatici, che siano efficaci, sintetici, che siano soprattutto delle visualizzazioni che consentano di essere schematici e che siano soprattutto divertenti, cioè facciano passare delle ore di consulenza e di ragionamento attorno ad un pezzo di carta che può essere messo su di un tavolo aziendale, di solito abbastanza grande, con colori possibilmente. Voi direte, vabbè ma stiamo parlando di dettagli, mica tanto, i dettagli fanno la differenza. L'utilizzare per mia esperienza colori diversi, carta ampia, mettersi in un ambiente spazioso aiuta, sembrerà strano, a ragionare in modo differente. Quindi evitate di prendere il block notes come io adesso qua sul tavolo piccolino a fare gli schemini. No, no, ragionate in grande e prendete degli strumenti grandi. Va bene, sono sciocchezze, ma sono sciocchezze che in qualche modo cambiano la realtà. Ma soprattutto la domanda che ci dobbiamo porre è, ma chi li fa questi modelli? Ecco, la risposta è l'imprenditore. So che ci sono anche dei consulenti che mi seguono, dei commercialisti o dei tributaristi. Evitate di essere voi a riempire il modello della Boston Consulting Group o della McKinsey Matrix, quello che volete, in sostituzione dell'imprenditore o che prendiate il portafoglio di Ashridge. Qualunque modello noi utilizziamo di strategia va fatto fare all'imprenditore. E quindi l'imprenditore che mi ascolta di penserà, ma come? Io la pago e poi devo anche lavorare. Esattamente. Perché è un po' come andare in palestra e pensare che agli esercizi li faccia il personal trainer. Capite? Cioè io è come se fosse una sorta di personal trainer, semplicemente non mi occupo del fisico, mi occupo della mente. Ma non posso io aiutarvi a sostanzialmente sollevare dei pesi. Non posso essere io a fare gli esercizi per voi. Io vi posso dire come si fanno gli esercizi, a che cosa servono e perché certi esercizi siano più utili per voi che altri. Usando questa metafora, quindi, tra i tanti modelli di strategia, io scelgo, in funzione dell'imprenditore con il quale colloco, sto colloquiando, io scelgo il modello più adatto. Ma perché alla fine è l'imprenditore che deve riempire quella mappa, risolvere quel problema, ovviamente con il mio aiuto, sedersi insieme a me e discutere di un modello mentale? La risposta è perché le risposte sono dentro di voi. Voi imprenditori avete le risposte, diffidate di quei consulenti che vengono da voi e vi dicono secondo me bisogna licenziare il personale o bisogna ampliare o ridurre il magazzino. Ma che cosa ne sanno? Quello che potreste fare è potreste dire a questi consulenti ma se lei è così bravo perché non viene a fare l'imprenditore al mio posto? Entra in società con me e mi dimostra, mettendoci del denaro, mi dimostra che sa fare le cose meglio di me. Il ruolo mio invece è il ruolo del metodologo, cioè dato che le risposte del vostro settore le sapete voi, cioè io non sono un esperto di ristorazione, non sono un esperto di turismo, non sono un esperto di rifiuti, non sono un esperto di agricoltura, non sono un esperto di ambiente, non sono un esperto di industria eccetera eccetera. Ma ho fatto progetti in tutti i settori che ho citato, perché? Perché in realtà il contenuto lo mette l'imprenditore, è l'imprenditore che lavora in quell'azienda da 10 o 20 anni, ha l'esperienza, ha la cultura, ha la conoscenza. Io metto a disposizione il modello e gli dico guarda che se tu metti la tua conoscenza dentro a questa scatola e ci lavori, ci elabori e poi lo rielabori, trovi le risposte. Ecco questa forse è come dire il corollario alle motivazioni precedenti del perché si usano i modelli nella consulenza di strategia, si usano perché facendoli usare dall'imprenditore, facendo giocare all'imprenditore, vi dovete fidare di me. Vi dico che guardate io vi alleno, ti faccio arrivare primo in quella gara, ma devi fare questi esercizi qua e se voi li fate quegli esercizi con la mia guida, troverete la risposta e diventerete primi non perché la risposta ve l'ho data io, ma perché l'avete saputa trovare voi. Ci vediamo alla prossima puntata.